Il dottor parlerà dell'ingegner Antonio Moretti sul tema di sacralizzazione dell'ordine temporale, missione specifica dei laici nella postulata del messaggio di Fatima, desimpezo della tradizione famiglia e proprietà. Scrive dell'underata sul mensile cattolicismo ed è autore del libro Fatima, messaggio di tragedia e speranza, un mero reseller nel mondo con più di 3 milioni di coppie diffuse. Potrete eseguire la sua conferenza sul testo che troverete nella cartella. Eminenze, Reverendissime, Eccellenze, Monsignori, Signori Stassettotti, Signore, Signori. L'apostolato di San Francesco Salvello, in Giappone, ha guadagnato per la Chiesa un numero incalcolabile di anima. Come era però prevedibile, ben presto si scatenò la persecuzione che cominò dalla schiera dei martiri di Nagasaki, di Shemabara e di tanti altri luoghi. Tale è la civiltà cristiana, fondamentalmente saccale, come la concepiamo, in cui la maggioranza degli uomini sarà fedele ai comandamenti di Dio, vivendo nella felice prospettiva della salvezza eterna. Questo sarà, a nostro parere, il glorioso avventimento della magnifica profezia di Nostra Signora Fatima, e infine il mio cuore immacoletto, Signora Fatima. Grazie.